L'Aquila rompe il tabù sandonato e torna a vincere con i giallo-blu dopo oltre quattro anni dall'ultima volta, con la migliore prestazione del campionato. Aquila che parte forte, Lischi invece di crossare decide di scaricare al centro verso Borgarello. 1-2 ancora con Lischi che prova il tiro a pochi passi da Mazzarri. Un tiro che diventa un cross basso a Bontempi che a porta praticamente vuota non può far altro che mettere dentro per il vantaggio lampo dell'Aquila dopo meno di 240 secondi dal calcio d'avvio. Aquila che prova a sfruttare la scia del gol e va vicino al raddoppio al tredicesimo con un Bontempi ancora protagonista, questa volta per Priore che manda fuori. Un minuto dopo su punizione il sandonato si fa vedere con un colpo poco sopra l'incrocio. Il ritmo si alza e poco dopo Borgarello si fa tutto il campo, perde forse l'attimo giusto per calciare e la palla va alta. Al ventitresimo è ancora Aquila con il sinistro di Ciofi. Passano ancora 60 secondi e dalla parte opposta Papalini ci prova di testa ma senza esito. Al ventisettesimo tutti protestano per un fuorigioco di Barazzetta. L'arbitro lascia proseguire e Dainelli chiude la porta ma è solo una parentesi su un primo tempo dominato dall'Aquila che al trentunesimo raddoppia con Veronica Di Ciofi che si libera dell'avversario e mette un cross perfetto per il solito Bontempi che dallo stesso angolo del vantaggio trova di testa il suo terzo gol nelle ultime due partite. Il primo tempo si conclude senza altre emozioni. Nella ripresa per il rosso-blu entra Ruffini al posto di Borgarello e si fa vedere subito con una conclusione ribattuta da Bontempi non a segno. Al cinquantaquattresimo è ancora il classe 2003 che si invola verso la porta avversaria scarica per Ruffini che calcia addosso a Manzarri. Ancora Bontempi ribatte ma non a rete. Il Sandonato spinge per ridurre le distanze e si apre in difesa. È infatti il Montevarchi a volere il tris e al cinquantasettesimo Ciofi ci prova addirittura da trenta metri, alto di poco. Ad essere scatenato oggi è Bontempi però che servito sulla trequarti da Ruffini non trova la tripletta per il pallone che si alza troppo. Poco dopo si affaccia sull'area del Montevarchi il Sandonato con il cross tagliato di Bellini che Dainelli blocca. Al settantaseiesimo è ancora Montevarchi che potrebbe chiuderla con Lischi a tutto campo che serve il solito Ciofi. Manzarri si supera e toglie il gol del match point. Il Montespreca e un minuto dopo è la volta di Ruffini che da pochi passi mette alto di testa. Nel finale lo squillo è ancora di Ruffini che sfiora il 3-0. Il Montevarchi però la chiude al novantunesimo con il neoentrato Boiga che raccoglie in area un assist di Lischi. Palla all'angolino e partita chiusa. Con la sconfitta del Real forte scatta la forbice con la terz'ultima. Ad oggi rosso-blu fuori dai play-out. Migliori in campo in questo match. Buon tempi Ciofi e Lischi.